Si respira un'area politica tesa a Nardò, dove ormai tutte le compagini politiche hanno acceso i motori e danno il piede sull'acceleratore. Mellone, il sindaco uscente da una parte, dall'altra tutti gli anti-melloniani nerettini, intenti a raffinare strategie per unire le forze. Cozza e Lo Savio potrebbero fare un passo indietro per creare l'aggregazione ampia che possa avere più chance contro il sindaco uscente. Queste perlomeno sarebbero le ultime indiscrezioni. Dal canto suo, Pippi Mellone va avanti come un treno, avendo in pancia l'appoggio pieno della squadra di Michele Emiliano, oltre che di esponenti leghisti e del centrodestra, che significa anche una parte dei dem sul territorio. Tra i candidati che sfidano il primo cittadino uscente c'è Falangone, ex vice sindaco di Risi, oggi sostenuto dal Movimento 5 Stelle, PD e Forze Italia Viva, che però non ha ancora ufficializzato l'adesione alla coalizione di centro-sinistra. Stefania Ronzino, sorella di Alfredo, primo candidato sindaco pentastellato, poi fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, corre con il supporto di un'area di sinistra fatta di associazioni ambientalisti. Resta poi in campo Minofrasca, sostenuto da Civiche e dalla responsabile eneretina di Forza Italia, Paola Mita. Ma le carte sono tutte sul tavolo, pronte ad essere mischiate e certo che qualcuno possa ancora mettere sul banco un asso nella manica.